Buongiorno a tutti i ragazzi sono Joe e questo qua è un video molto particolare ma ogni volta che faccio un video molto particolare quindi sono un po' un falso e comunque bando alle ciance stiamo su Advanced Warfare, un quickscope uno contro uno contro Joombro Joombro, Joomlo, non lo so, no non è vero il grandissimo Joombo Drill e in pratica stiamo facendo Wager, Wager su COD penso sia uno dei primi in Italia, comunque nel resto del mondo ce ne sono un sacco e in pratica consiste in, facciamo una sfida uno contro uno a quickscope con i cecchini in questo caso trovati nei pack lui ha trovato ad esempio il Tumblr, io il Long Rifle e in pratica chi perde dovrà eliminarsi questo, il cecchino che si sta giocando e nulla, partiamo subito con le feed che farò su Joombo e bella ma te stai registrando l'audio? si io no e e oddio subito prima kill dei principianti e e e e e parliamo in inglese perchè fa più fa più, fa più visual madonna lì mai son diventato feeder e Joombo mai è un feeder lui oh so sick dude uowose uowose proprio dove e beh ti odio e bello che fa rider fa uno contro uno perchè con sti supersalti non si capisce nulla e bello aereo dai ma non sono riuscito a saltare da dentro ciao ciao ah no non si vede perchè non stai registrando la webcam però ti ha salutato cazzo ma no madonna io sono convinto che Joombo le sta mirando tutte non è vero eh eh non era qui scoops questa è la mirata ultima anche questa è la mirata cazzo sopra di due not not bad dov'è? eh non mi vedi? no dai però c'era un hammer che mi copriva la vista dai oh lo scopto ho fatto oddio eh ma sei un trick shooter normale cosa? eh i due agli aerei però magari questi era mirata no no assolutamente no stiamo pareggiando no? ufff fottiti penso che dopo questa partita la nostra amicizia finirà qui si esatto vabbè se vinco io no se vinci tu e il piedino fa male il piedino eh dammi una foto mi sento un ricoglionito ahahah anch'io no oh ricoglionito oh eccolo no dai si oh ultima doppio salto miro sparo doppio salto giro non cambio arma perchè non abbiamo l'ho non abbiamo usato niente oh no vabbè oh che culo questo è il culo del trick shooter cazzo no dammi ero io no non riesco ad uscire oh cazzo no 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 dai non ballo cazzo no 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 buono no buono no 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 la rimonta no 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 ok 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 come come no ma che no basta due elevi ti prego non ci faccio più guarda guarda dove si infila tra i pali oh mio dio perciò di merda no oh cazzo oh cazzo uff la play si sta iniziando a surriscaldare oh grillo di merda oh cazzo oh eh oh eh oh 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 eh eh è andata bene oh cazzo no è andata bene te l'ho data questa eh te l'ho data sì sì me l'hai data sei sei la prima ragazza che me la dà eh mi sa che è l'ultima oh 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 i pezzi dove eri non t'ho visto ti giuro nemmeno io continuando a saltare io ah lì giù oddio no 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 cos'è oh non riesco a uscire oh oh no no Liz oh oh parca puttana jumbo si inizia a scadare no pari jiji jumbo nei miri non vale ma neanche un caricatore rapido oh oh eh eh oh no oh oh dove sei? non ti vedo dove sei? dove sei? dove sei? beh continuiamo ancora per molto basta ah vaffanculo eh ok mio no 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 25 pari no 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 oh no cazzo merda raga ho paura io no no vabbè mi sfondava cioè sono rimasto appeso per la gamba sì madonna raga no ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la possiamo fare no sto cazzo ce la possiamo fare no cazzo oh oh ti ti io te le miro no tu no non l'ho mirata ma anche io le sto mirando eh ahahahah nooo that, 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 that shot haie shot haies no, merda raga, c***o m***a c***o dò guarda dove c***o salti, basta oh yeah, bambino sta fuoi ma fanno ancora in realtà sono un tuoi in 32 anni, X-Poses boom è l'unica che non ho mirato, e vai così nooo, l'unica che non ho mirato si è vista in Killcam nooo, io devo eliminarla la mia arma adesso si si, fallo vedere i tuoi iscritti come le divini allora, armory no dov'è dai per farti compagnia elimino anch'io qualcosa come si fa dai elimino nooo, dai, vaffanculo io li elimino dai ti odio, pochia puttana vabbè ragazzi vogliamo un minimo 200 like a sto video se no niente futuro episodio niente rivincita io 200, lui dato che Gio lasciategliene pure anche 20 va bene vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ringrazio Jumbo per l'ospitalità non è vero grandissimo e comunque ragazzi passate a vedere è l'ospitalità ognuno è il proprio canale andate a vedere tutti e due il video perché caricheremo un video in descrizione mi raccomando lo spam perché lo spam per Gio e i primi commenti che vedrete sarà il mio canale vabbè è nulla, spero che vi abbiamo divertito abbastanza salutiamo Gio rogo ragione tutto e dai Jumbo anche bella fama direi logoroico rogo logoro logoroico un po'